Siamo a Milano nel corso di una conferenza stampa dove è stato presentato uno studio italiano dell'ospedale Careggi di Firenze che ha analizzato il ruolo di diverse sottopopolazioni di eosinofili sulla severità dell'asma severo eosinofilico e sulla possibilità di intervenire sugli squilibri tra le diverse sottopopolazioni di queste cellule con mepolizumab, un farmaco biologico di provata efficacia nel trattamento di questa condizione clinica. Ne parliamo con la dottoressa Alessandra Vultaggio, ricercatrice presso l'Università di Firenze, uno degli autori dello studio che è stato presentato qui in conferenza stampa oggi a Milano. Dottoressa, sappiamo che l'asma grave nella maggior parte dei casi è legato alla presenza di un numero elevato di eosinofili, però dal vostro studio che avete presentato qui in conferenza stampa sembra emergere che gli eosinofili non sono tutti uguali, in termini di severità dell'asma. Ci spiega cosa vuol dire e cosa vi siete proposti con lo studio che avete presentato qui oggi. Sì, allora, gli osinofili sono cellule che sono conosciute da moltissimi, moltissimi anni, circa 150 anni, ma ormai abbiamo capito che la loro biologia è molto più complessa rispetto a quello che pensavamo e si tratta di una popolazione molto eterogenea di cellule, quindi esistono vari sottotipi di cellule che possono essere studiate, possono essere identificate nel sangue dei pazienti affetti da asma bronchiale, affetti da poliposi nasale. Nel nostro studio appunto abbiamo, valutando una casistica abbastanza ampia di soggetti affetti da asma e da poliposi nasale, abbiamo capito che effettivamente queste due sottopopolazioni esistono, sono distinguibili a livello del sangue periferico, infiltrano i tessuti, sono cellule attivate e correlano con la gravità dei sintomi dei pazienti, quindi tanto più importanti sono i sintomi che il paziente ha a livello respiratorio, tanto più alta la percentuale di queste cellule nel sangue periferico. Dottoressa, voi avete incluso in questo studio pazienti trattati con mepolizumab, ci dice quali sono stati i risultati che avete ottenuto quando avete utilizzato mepolizumab sui vostri pazienti? Sì, al di là appunto di quella che è la rilevanza clinica di queste cellule, abbiamo deciso di indagare la rilevanza da un punto di vista terapeutico di questa sottopopolazione di cellule e quello che abbiamo osservato è stato nei pazienti trattati con mepolizumab una riduzione selettiva della percentuale di cellule appunto che hanno le caratteristiche di cellule infiammatorie. Sostanzialmente nel paziente trattato si rinstaura una situazione estremamente simile a quella del soggetto sano, quindi è un tornare indietro, un came back verso quella che è una situazione fisiologica sostanzialmente. E allora per concludere, dottoressa, quali sono i take-home message che si possono dare sul fronte della pratica clinica? Allora sicuramente la possibilità di utilizzare questa sottopopolazione eosinofilica come un vero e proprio biomarcatore di severità, probabilmente anche un biomarcatore di tipo predittivo in termini di risposta al trattamento stesso e la capacità di poter andare in maniera selettiva contro questo target che ha le caratteristiche appunto di cellule infiammatorie. Quindi dovrebbe rappresentare il vero target della terapia che scegliamo nel nostro paziente.